Non accenna a placarsi l'attività stromboliana del nuovo cratere sud-est dell'Etna, cominciata all'alba di ieri e progressivamente intensificatasi nel corso di stanotte. Frequenti e forti esplosioni hanno illuminato di rosso il cielo sopra il vulcano più alto d'Europa a monitorare i fenomeni vulcanici e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Due le colate di lava attive, una alimentata da una bocca sul fianco orientale del cono del nuovo cratere di sud-est, l'altra ha tracimato l'orlo nord-orientale del cratere. L'ampiezza media del tremore vulcanico è in salita, senza finora raggiungere i livelli caratteristici di un tipico episodio di fontana di lava. Il vento che soffia verso nord-est ha spinto la nube di cenere diluita generata dall'attività esplosiva in direzione dell'aeroporto Fontana Rossa del Capologo Etneo, senza comunque pregiudicarne l'apertura. La società aeroporto Catania ha però informato che l'unità di crisi, riunitasi stamattina alle 5.30, ha deciso di chiudere precauzionalmente i settori 1 e 2 dello spazio aereo della Sicilia orientale, i settori 3 e 4 sono invece regolarmente aperti, lo scanolo di Fontana Rossa infatti resta operativo.